Ciao a tutti, sono Giovanni Covini, sono un filmmaker, insegno cinema alla Civica Scuola Lurchino Visconti di Milano e alla Paolo Grassi di Milano. Al Centro Asteria tra marzo e aprile farò sei incontri, terrò sei incontri di analisi cinematografica. Analizzeremo i personaggi e le storie, non tanto da un punto di vista didattico, quanto per cercare di capire come il cinema guarda l'essere umano, quindi sono anche un po' degli incontri che vertono sull'osservazione di noi, delle nostre dinamiche, di come funzioniamo e di quando una storia ci interessa, perché quando la storia ci interessa vuol dire che ci riguarda, quando ci riguarda vuol dire che ci somiglia e quindi il cinema ci aiuta a capire un po' chi siamo. Spero di trovarvi numerosi e un saluto a tutti!